ciao ragazzi bentornati oggi nuovo video sono uscito in barca e sto andando a testare un papabile nuovo hotspot che ho selezionato sulla carta nautica era un po di giorni che volevo venire a provarlo e oggi c'erano le condizioni giuste quindi sono pronto per calare le powerball fondale tra i 90 e i 100 metri vediamo un po se c'è qualcosa di bello mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale pollice in su piccolo pagello un piccolo occhione un altro occhione è arrivato un po più grande di quell'altro lasciamo anche questo eccolo qua il pescione un bel pesce diciamo ci aspettavo a bello bell'occhione questo è da porzione altro bel pesce in canna abbiamo slammato uno mi ha ridato in caduta di nuovo che occhione meraviglioso ragazzi è super pezzo questo è bellissimo no incredibile ha rotto tutto in un attimo porca troia ciao ciao per Eccolo qua, l'altro pesce in canna, serrata comoda da seduto. E' un altro bellissimo pione, se ne si è attorcigliato sul finale. Sicuramente ha mangiato quando l'esca stava scendendo, stava rientrando nella palla. Anche questo, bell'esemplare. E' un altro pione. E' un altro pione. Caduta? Bellissimo. Ragazzi, oggi devo dire la verità, mi aspettavo tutto tranne le pezzogne. O gli occhioni in italiano, come preferite. Però la pesca è bella perché è sempre piena di sorprese. C'è bisogno dell'umine. E' un altro pione. Espadone. E' un altro pione. E' un altro pione. Samata eccolo qua un altro occhione a bordo eccolo qua pescione ragazzi pescione mega musdea, mega musdea è oggi spettacolo, bellissima eccolo qua un altro occhione un altro bellissimo occhione eccolo qua un altro e chiudiamo la pescata ed eccolo qua un altro bel pesce per chiudere la giornata allora ragazzi questa pescata si chiude qua io sono già in posto ci vediamo alla prossima ciao